Mi sono adottorato in storia della filosofia moderna presso l'Università di Torino, mi occupo del pensiero del Settecento britannico e alla Fondazione Naudi quest'anno ho approfondito il pensiero politico degli ultimi decenni del Settecento, in particolare mi sono occupato della diffusione del linguaggio dei diritti dell'uomo. Che cosa vuol dire? Che gli uomini hanno dei diritti? In che misura questi vanno tutelati? In che forma questi diritti devono essere sanciti attraverso delle costituzioni scritte?